Sai quanto guadagni da ogni prodotto o servizio che vendi? Ti sei mai fatto seriamente questa domanda? Quanto guadagno da ogni prodotto o servizio che vendo? Perché sai, una cosa è il guadagno complessivo che ti porta la tua attività, tutt'altra cosa è quello che ottieni da ogni singolo prodotto o servizio che vendi. Ma non basta il fatturato complessivo? Domanda, a che cosa ti serve scendere così nel dettaglio? Lo scopriamo in tre step di questo video. L'ultimo step sarà la soluzione, ovvero una formula per calcolare il reale guadagno che generi da ogni prodotto o servizio o business unit che hai in azienda. Quindi, resta con me fino alla fine. Cominciamo. Come prima cosa riprendiamo dalla domanda lasciata in sospeso poco fa. A che cosa ti serve scendere così tanto nel dettaglio? A cosa ti serve complicarti così tanto la vita e calcolare il margine di ogni prodotto quando potresti accontentarti del dato complessivo? Ne vale veramente davvero la pena? Vedi, se vuoi riprendere il pieno controllo della tua azienda, fare previsioni accurate del tuo futuro, guadagnare di più e impostare una strategia crescita più sicura e oggettiva, e come se ne vale la pena, e come se ne vale la pena. Te lo dimostro con degli esempi molto pratici. Mettiamo che la tua azienda guadagni complessivamente 60.000 euro al mese vendendo due prodotti. Uno di questi prodotti ti fa guadagnare 80.000 euro, mentre l'altro te ne fa perdere 20.000 euro. In questa situazione quello che farebbe ogni imprenditore è guardare il fatturato complessivo, ovvero 60.000 euro, e prendere decisioni solo su questo dato complessivo. Il problema è che basarti su questo numero vuol dire muoverti a sentimento, a pancia. Questo perché continuerai a sviluppare e investire su entrambi i tuoi prodotti fin tanto che il tuo fatturato complessivo sarà positivo. Senza però accorgerti che uno dei due prodotti sta divorando ben 20.000 euro generati dall'altro. È un grossissimo errore non conoscere le tue aree aziendali inefficienti, i prodotti che divorano il tuo margine o le business unit che ti fanno perdere soldi. Tutto questo, navigare a vista, lo paghi con i margini, gli utili e i guadagni personali che si abbassano, senza tu te ne accorga, assolutamente. Infatti potresti fatturare tranquillamente 80.000 euro al mese con un solo prodotto e invece stai facendo di meno e te ne accorgi perché guardi solo il complessivo. In pratica non hai in pugno le redini della tua attività. Ti sta andando bene, ma potrebbe andarti molto peggio. Ma facciamo ora un passaggio in più. Come nell'esempio di prima, mettiamo che la tua azienda venda due prodotti e guadagni sempre complessivamente 60.000 euro al mese, ma questa volta entrambi i tuoi prodotti ti faranno guadagnare. Uno 50.000 euro e l'altro 10.000 euro. Il primo passaggio sbagliato è considerare il fatturato complessivo e ti ho dimostrato il perché con l'esempio di pochi minuti fa. Ora il secondo passaggio sbagliato è considerare il fatturato per singolo prodotto. A prima vista infatti questo secondo esempio potrebbe semplarti migliore perché entrambi i tuoi prodotti ora stanno facendo guadagnare la tua azienda. Ma in realtà anche considerare il fatturato per singolo prodotto o servizio non basta, non è sufficiente. Mi spiego meglio. Nemmeno i 50.000 e i 10.000 euro sono numeri che ti dicono come sta realmente andando la tua attività e che ti permettono di prendere decisioni aziendali accurate. Come no? Dirai tu, semplicissimo. Il prodotto che sta generando 50.000 euro è quello che sta andando meglio e sul quale dovresti spingere di più. Mentre quello che sta facendo solamente 10.000 è da eliminare. Non è così semplice? Se fosse il contrario di così, se fosse il prodotto da 50.000 euro, quello che ti sta bruciando margine, è invece quello da 10.000 che lo sta portando su. Il punto è che se non conosci e analizzi i tuoi costi per singolo prodotto, questo non potrai mai saperlo. Magari i costi del tuo primo prodotto, tra fissi e variabili, ammontano a 46.000 euro, mentre quelli del secondo prodotto soltanto 2.000 euro. In una situazione del genere si è avverato il contrario. Il prodotto che fattura di più è quello che brucia più margine. Il prodotto che fattura di meno ha un margine direttamente maggiore e ti fa guadagnare di più, addirittura il doppio. Per questo continuo a ripetere che se non conosci e analizzi i tuoi costi per singolo prodotto e o servizio, potrai solamente muoverti a sentimento complessivo di pancia, distinto. Non ti piacerebbe conoscere quali sono le tue aree aziendali inefficienti e quali invece quelle efficienti per fare scelte più ponderate e impostare una strategia di crescita più sicura. Non credi che con dati così precisi, sui tuoi costi, il tuo lavoro da imprenditore sarebbe molto più facile e tu saresti anche più sereno dentro di te. Infatti, ricapitoliamo un momento. Il fatturato è sempre un numero sbagliato su cui basare le tue decisioni aziendali, sia che si tratti di fatturato complessivo che si tratti di fatturato per singolo prodotto o servizio. Ma perché, Mirko? Perché il fatturato è soltanto una parte dell'equazione del guadagno e gli imprenditori, ahimè, spesso, se ne dimenticano. Vogliono fatturare di più pensando di guadagnare di più. Ma non c'è bisogno. Per guadagnare di più non devi per forza fatturare di più. Ricordatelo. Ti basta controllare meglio i tuoi costi. Quindi i tuoi numeri. Con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e marginare di più. La parola magica è marginare di più. È solo una questione di numeri e non di numeri qualsiasi. Devi monitorare giorno per giorno solo i numeri aziendali giusti. Perché se ti basi su quelli sbagliati non puoi sapere quali sono le tue aree aziendali inefficienti per eliminarle. Quali sono le tue aree aziendali che potrebbero andare meglio e ottimizzarle. Quali sono le tue aree aziendali già efficienti per svilupparle e potenziarle. Se hai il controllo dei tuoi numeri non ti muovi distinto, a sentimento e non crei alcun danno alle performance degli utili della tua azienda. Se controlli i tuoi numeri a zero il tuo stress. Ma ripeto devi avere i numeri giusti sui polpastrelli. Ma passiamo ora al terzo step. Quindi è la formula per calcolare il reale guadagno da ogni tuo prodotto, reparto o servizio. Partiamo dalle premesse. Ti sto per presentare una semplice formula per avere un'idea alla veloce devi approfondire su questo del tuo guadagno per singolo prodotto o servizio. Non temere. Grazie a questa formula sarai comunque in grado di distinguere le tue aree aziendali inefficienti da quelle efficienti e prendere già decisioni aziendali più sicure. L'unica piccola pecca è che puoi aspettarti dei risultati precisi al millimetro perché per raggiungere questo obiettivo ti serve un metodo. Un metodo che comunque in imprenditore vero abbiamo già sviluppato attualmente in uso su più di 6.000 aziende. Passiamo ora alla formula MC. Per cosa sta MC? Sta per un indicatore fondamentale che è il margine di contribuzione. Parola magica. Si tratta di una metrica chiave che fornisce un'analisi accurata del controllo di ogni prodotto o servizio alla redditività complessiva dell'azienda. Questo indicatore consente di comprendere quanto ogni unità venduta contribuisca a coprire i costi fissi e a generare profitto e si calcola sottraendo i costi variabili associati alla produzione o la vendita di un singolo prodotto o servizio del tuo prezzo di vendita. La formula è ricordati prezzo di vendita del singolo prodotto diviso servizio e costi variabili unitari. Faccio un esempio terra a terra. Supponiamo di avere un prodotto che viene venduto a 150 euro e che i costi variabili associati ad esso siano di 50 euro. Il margine di contribuzione sarebbe 100 euro. Semplicissimo. Nel momento in cui cominci a calcolare il margine di contribuzione per ciascun prodotto o servizio che vendi otterrai una panoramica chiarissima piuttosto dettagliata del contributo che ciascuno di essi porta alla redditività della tua azienda. Questo ti consente di identificare il tuo cavallo di battaglia e concentrare le risorse su di esso per spremere il mercato come un limone. Rivedere o eliminare i prodotti e servizi o reparti che producono margini bassi negativi. Prendere decisioni più informate e strategiche per la crescita della tua azienda. In sintesi il margine di contribuzione parola magica ti aiuta a massimizzare i profitti e ad oggi ti permetterà di rispondere alla domanda quanto guadagni su ogni prodotto o servizio che vendo? Se questo contenuto ti è stato utile ma non ne ho dubbio perché ti sei messo in tasca un po' di sano e pratico valore aggiunto allora condividilo con il tuo collega imprenditore. Ricorda la condivisione crea network e il network facilita il business. Sono l'unico a diffondere questi contenuti. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.